Buono l'allineamento. Lotta serrata con Illidia, Rich, Indira, Bip e a largo di galoppo Illusione. Viene via Ismene Rab, parte alla grande I, la ridete numero 13, anche il 12 di inafferrabile Gar. 13,9 freeway per la lieva di Forino, che al completamento quasi della piegata è al comando. Le cavalli si presentano davanti alle tribune, si va dopo 400 metri di gara, in 29,9 e così Ismene Rab, Indira, Bip, cerca di parcheggiare il ridete, viene via il 7 di Insulas, lontano il 6 di Illusione. Si va dopo 600, il 600 in 45,9 e la lieva di Terracino va diretto a contatto con Ismene Rab, ma viene anticipata da Minopoli con Ilaridete, insiste Terracino. E Illusione, Insulas, Appariglia, Ismene Rab, mezzo miglio, in 1,2, una virgoletta, sta passando di forza l'arrivo di Terracino. Le cavalli affrontano il penultimo rettilineo, galoppa Ismene Rab, prende vantaggio Insulas, viene via Iconagrif con in proda. 17,2 il chilometro, ma alla grande singamba, inafferrabile Gar, e la targata Gar va a caccia della leader. Le cavalli affrontano la curva finale, freeway per la inafferrabile Gar, frazioni in 15,7, 1,32, 9, tre quarti di miglio. A largo viene via Ilenia Rosa, anticipato però da Ikea Adete, tre cavalli in lotta, ormai il discorso è tra le tre, inafferrabile Ikea Adete, ma a largo viene via anche Ilenia Rosa, inafferrabile in vantaggio, ma a largo viene via Indira Griff. Di dentro va Ilenia, lotta incerta, insiste Indira Griff, Indira Griff, secondo I sul traguardo, Ikea Adete, terzo e numero 11, Ilenia. 2,4, 1,17,6, vittoria di Torrente alla grande con questa Lemondra.